Buonasera a tutti quanti e benvenuti, dato che siamo un numero abbastanza importante ma non eccessivo, direi fosse un colloquio il nostro, quindi parleremo di edilizia ecosostenibile, che è un termine effettivamente un pochino abusato negli ultimi anni, ma cercherò di farvi capire come Incarcoli invece sia un fondamento molto importante e che mi impegna a me e a tutti i miei colleghi ogni giorno. Crediamo che effettivamente quando un'azienda è produttrice di materiali per l'edilizia abbia una responsabilità, questa responsabilità è innanzitutto per quanto riguarda nei confronti dell'ambiente, ma l'ambiente è dove tutti quanti noi viviamo, quindi è effettivamente una responsabilità anche di carattere sociale, perché non saremo certo noi gli ultimi ad abitare questo pianeta, speriamo, e quindi dobbiamo sicuramente cercare di dare alle future generazioni una situazione che non sia così disastrosa come purtroppo è in questo momento. Avrete sentito tutti quanti gli ultimi telegiornali che appunto hanno evidenziato come il mese di aprile scorso sia stato il mese più inquinato nella storia del nostro ambiente, quindi della Terra. Quindi anche per quanto ci sia effettivamente un'attenzione spasmodica da parte di tutti, dei governi, però il risultato è quello che abbiamo appena vissuto il mese più inquinato della storia del nostro pianeta. Quello che naturalmente noi chiediamo effettivamente è avere dei partner, quindi dei progettisti, dei professionisti, degli impresari che credono appunto in questo tipo di nostra filosofia e ci seguono appunto in questa maniera. Brevemente qualche dato perché tutti quanti noi facciamo parte di questo mondo, cioè del mondo dell'edilizia, e quindi vediamo un attimino come effettivamente noi siamo al centro di quelli che sono i problemi di sostenibilità a livello mondiale. Il nostro pianeta, come vedete appunto in questa slide, l'edilizia utilizza il 35% delle risorse ambientali. Tutti questi dati che vedete nella slide al mio fianco non sono dati Caracol, ma sono dati che noi prendiamo naturalmente da fonti internazionali ben visibili. Siamo responsabili del 38% dei rifiuti e le aree urbanizzate ormai, per quanto riguarda l'Unione Europea, quindi l'Europa, ricoprono circa il 9% della superficie dell'intera Europa. E nonostante la crisi che ci ha colpito negli ultimi anni, vi è un aumento della superficie costruita del 6% nell'ultimo decennio. La crisi economica che ci ha colpito sicuramente è un qualcosa di negativa, non si può discutere su questo tipo di discorso, però se possiamo trovare positivamente un punto a suo favore effettivamente è quello che costruiamo di meno sul nuovo, ma cercheremo sempre di più in futuro, e credetemi, quello che è la riqualificazione del patrimonio costruito. Noi siamo italiani, quindi naturalmente pensiamo alla riqualificazione del patrimonio italiano. C'è sicuramente, come anche l'ingegnere che mi ha preceduto, una voglia, un'attenzione nel riqualificare, nel portare gli edifici del passato, che qualche pecca, ahimè, lo hanno, in edifici che siano effettivamente efficienti da un punto di vista energetico e non solo. Quello che colpisce sicuramente, o almeno colpì molto me, la prima volta che lessi questi dati, è che gli ambienti interni sono dalle due alle cinque volte maggiormente inquinati rispetto all'esterno. Non so voi, ma l'idea che avevo io prima di entrare a conoscenza di questi dati era che almeno alla sera, tornando a casa e chiudendo la porta di casa, effettivamente entrassi in un ambiente che mi, come dire, mi confortasse da un punto di vista per quanto riguarda l'inquinamento. Perché pensavo appunto che l'inquinamento esterno, lo smog, le polveri sottili, tutto quanto, fosse più un fattore inquinante e una volta all'interno di un ambiente chiuso questo fosse attutito. Sbagliatissimo. Come vedete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non parliamo dell'ultimo degli istituti presi come esempio, ha determinato appunto che gli ambienti interni sono dalle due alle cinque volte più inquinati. Perché sono più inquinati? Prima di tutto perché in passato le aziende produttrici di materiali edili non hanno mai avuto una sensibilità tale appunto da lavorare in questo tipo di indirizzo, in questo tipo di direzione. Seconda cosa, sicuramente non meno importante, perché effettivamente andiamo incontro a che cosa? A un discorso legato a queste famose case passive, se possiamo dire da un certo punto di vista. Quindi case che da un punto di vista dell'efficienza energetica, della chiusura degli infissi, sono sempre più occludenti. E questo comporta appunto il fatto che, se non in maniera opportuna utilizzati degli impianti di ricambio dell'aria forzata o aprendo semplicemente le finestre, quelli che sono appunto gli elementi inquinanti e naturalmente che impattano negativamente sulla nostra salute, girano sempre all'interno degli ambienti. Periodo. Ah, tra l'altro non funziona anche questo. Parlando con la voce. Va bene? Almeno il microfono funziona? Perfetto. Io comunque vado avanti, poi vedremo i dati in seguito. Dicevo, nella slide c'è ad esempio, sottolinea come 75 milioni di europei soffrono di sindrome dell'edificio malato. Che cos'è la sindrome dell'edificio malato? È una sindrome che è stata codificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove appunto si è stabilito che circa il 20% della popolazione mondiale è colpita da cosa? Da irritazioni, spostatesse, sempre maggiormente allergie, le allergie aumentano di sempre. Io sono un allergico e non sto male solamente in questo periodo dell'anno, ma effettivamente adesso le allergie colpiscono un po' durante tutto l'anno. Un bambino su quattro, ad esempio, soffre di allergie. Vi sono in Europa circa 30 milioni di asmatici. Quindi cosa vuol dire questo? È un segnale. Sapete benissimo che da un punto di vista medico, a un certo punto il nostro corpo ci manda dei segnali. Può succedere con l'influenza e con le malattie in generali, ma sta a significare che siamo arrivati a un tale livello di inquinamento che ormai effettivamente basta. Il corpo dice basta e naturalmente si sviluppano questi tipi di patologie e di problemi. Per quanto riguarda sempre il mondo dell'edilizia, sappiate che, e parlo di edilizia residenziale ma anche commerciale, il 40% delle emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica all'interno dell'ambiente, sono da scrivere appunto al mondo dell'edilizia. I cimentieri o grandi produttori di cemento, sapete benissimo che per realizzare, per produrre cemento, si arrivano con dei forni a delle temperature fino ai 1300 gradi. Più naturalmente le temperature di cottura di quelli che possono essere eleganti sono alte e più le emissioni di anidride carbonica all'interno dell'ambiente anche se salgono. Ah perfetto, ho ritornato il mondo. Naturalmente quello che è una corretta politica di efficienza energetica applicata agli edifici può ridurre fino al 50% le emissioni atmosfera di quelli che sono i gas serra. Le immagini che ripeto che sono viste fino a pochi giorni fa di quelli che sono le condizioni in alcune città mondiali sono veramente da caponare la pelle, soprattutto magari in ambienti come paesi come la Cina, come l'Oriente, dove effettivamente l'attenzione, la sensibilità e le regole sono un pochino bypassate. Però di quello che poi si fa dall'altra parte del mondo, noi non è che siamo assolutamente immuni, ma comunque ne sentiamo anche noi lì le negatività. Per quanto riguarda invece un discorso di serietà, come dicevo prima, c'è una parola inglese, ma non piace molto usare parole inglese perché sono fiero di essere italiano e l'azienda per cui lavoro è italiana, si chiama greenwashing. Cosa significa questa parola? Significa che effettivamente un po' in tutti i settori dell'industria c'è un indirizzo, una volontà nel mettere la parola eco, bio, sostenibilità, bioedilizia, bioarchitettura, un pochino in molti frangenti. Nella maggior parte delle volte, e credetemi perché abbiamo fatto delle analisi molto dettagliate con l'azienda, questo è greenwashing, cioè voler da un punto di vista del marketing dare un certo tipo di impostazione, ma poi stringi stringi in quelli che sono effettivamente fattori anche numerici di quelli che possono essere i miglioramenti che si possono apportare, c'è poi dietro veramente poca cosa. La Caricol è un'azienda che ha più di 40 anni, perché nasce negli anni 1970, però ha sicuramente sviluppato ormai da una quindicina d'anni una sensibilità veramente molto spiccata. Non vi voglio tediare con quelli che sono stati i vari passaggi, però in alcuni passaggi veramente importanti mi piacerebbe sottolineare una cosa. Pensate a una stupidaggine, il fatto dei ravanetti, voi sapete cos'è un ravanetto? Un ravanetto sono zone, sono campi dove vengono, soprattutto presente nelle Alpi Apuani, quindi parlo alta Toscana e vi dicendo, dove c'è la lavorazione, parlo di Massa Carrara, zona dove il marmo di Carrara è uno dei materiali da costruzione, di cui siamo conosciuti all'estero, siamo apprezzati di grande finezza, utilizzato fino ai tempi passati anche da scultori e tutto quanto. Il problema della produzione del marmo, ad esempio, sta nel fatto che voi conoscete benissimo, avrete visto più volte i classici blocchi che vengono realizzati per poi fare innumerevoli situazioni nel campo dell'edilizia. Questi blocchi però hanno una quantità di sfrido enorme, perché quello che voi vedete è il blocco tagliato, ma tutti quelli che sono le piccole parti che vengono appunto tagliate e lasciate normalmente nei campi, costituiscono un vero e proprio inquinamento, perché voi vedreste in queste zone, nella zona di Massa Carrara, questi campi, con questi sembrano sassi, invece sono semplicemente tagli della lavorazione del marmo. La Caracol nel 2004 ha avuto, secondo me, un tipo di intuizione importante, perché il marmo di Carrara, materiale assolutamente pregiato e che può essere macinato, triturato e messo in quello che sono le malte da costruzioni. Noi siamo riusciti al contempo nel utilizzare uno dei materiali principi della tradizione costruttiva italiana e a pulire questi enormi campi, queste enormi situazioni che si presentavano da un punto di vista dell'impatto ambientale molto molto gravoso. Questo è stato una delle tante cose che abbiamo fatto in Caracol. Sicuramente la linea che rappresento, che è la linea di biocalce, che è nata, presentata ufficialmente nel 2005, ma ha avuto una sperimentazione nel passato di almeno cinque anni, è stata la linea che effettivamente ha fatto capire all'azienda che la direzione era quella e che effettivamente bisognava muoversi in quella direzione, in quella maniera. Poi nel 2010 vi è stato il più grande cambiamento che si è anche andato a evidenziare, questa è una stupidaggine, però naturalmente molti di voi l'avranno notato, Caracol storicamente aveva la cappa rossa e dal 2010 invece la cappa si è trasformata in una cappa verde. Questo non è una semplice operazione di marketing, ma è stato nell'evidenziare quelli che sono i tre parametri su cui noi lavoriamo tutti i giorni e sono i seguenti, noi lavoriamo per quanto riguarda l'ambiente, e vi farò vedere in che maniera, la salute, per salute intendo salute dell'operatore che tutti i giorni è su malta fresca, su adesivo fresco, su pittura fresca, lavora effettivamente a poca distanza da un materiale, ma soprattutto anche per chi poi andrà a abitare quello che sarà un futuro ambiente interno realizzati con prodotti Caracol. E in un ultimo per importanza sicuramente la salvaguarda dell'energia, che non significa per quanto riguarda un produttore di materiali edili solamente nel realizzare un cappotto o un sistema termisolante, ma significa anche in fase produttiva abbattere quelli che possono essere effettivamente degli sprechi e quando si parla di grandi industrie come la Caracol già abbattere piccole percentuali di energia in fase produttiva significa effettivamente apportare dei grandi benefici all'ambiente. Tutto questo è dovuto grazie a un centro di ricerca che tra l'altro alcuni di voi presenti in questa sala hanno già visitato personalmente, che è il Green Lab Caracol. Se possiamo noi in Caracol, io e i miei colleghi del centro studio, effettivamente presentarvi delle grosse innovazioni quasi con cadenza annuale è grazie alla collaborazione che abbiamo quotidianamente con i nostri ricercatori, ingegneri bioedili che lavorano all'interno del Green Lab Caracol. Il Green Lab Caracol è sicuramente un edificio unico, unico in Italia, unico in Europa e forse secondo noi anche dalle nostre ricerche è abbastanza unico anche a livello mondiale, sicuramente nel nostro settore, quindi per quanto riguarda l'edilizia. È un edificio che ha 6.857 metri quadri di superficie, è un volume di 15.762, ha all'interno circa 100 ingegneri bioedili che vi lavorano tutti i giorni, noi siamo strutturati con una sezione posa e una sezione edilizia, perché differenziamo le due linee. Vi sono all'interno del Green Lab nove laboratori differenti ed è stato un investimento da parte di Caracol di 14 milioni di euro. Questo edificio è totalmente ecosostenibile nel senso che non ha nessun tipo di spesa di carattere energetico. Ha vari sistemi, che adesso non vi elenco tutti perché altrimenti non entriamo nel cuore della nostra discorso di questa sera, però è veramente ad impatto zero. Ha vinto anche un premio alla Binale di Venezia, è un edificio veramente unico. Per quanto riguarda il discorso che dicevo precedentemente, cioè quello di cercare di non essere un'azienda che fa del greenwashing, quindi che si bea magari di cappa verde o di farfallina o della famiglia felice che in fin dei conti sono solamente operazioni di marketing, abbiamo codificato e realizzato quello che è il Green Building Rating, cioè abbiamo voluto quattro anni fa creare una carta di identità di quelli che sono i nostri prodotti. La nostra volontà era quella effettivamente di cosa? Di avvalerci di quelli che potevano essere istituti nazionali o internazionali che potessero effettivamente certificare i nostri prodotti o comunque avessero un indirizzo nel campo specifico dell'edilizia. Purtroppo, ahimè, sia in Italia che in Europa non ci sono nessun tipo di istituto o di carattere statale o di carattere anche privato che ci hanno soddisfatto in pieno perché effettivamente c'è chi studia magari certi tipi di problematiche, tipo le particelle organiche volatili, c'è chi studia magari problematiche legate agli adesivi, chi agli intonaci, no alle pitture e quindi effettivamente c'è un tipo di panorama molto molto frastagliato e la nostra volontà è stata quella di creare effettivamente una carta di identità dei nostri prodotti con dei valori certi, scritti, nero su bianco, in modo che naturalmente qualsiasi tipo di competitor o voi che siete dei progettisti possiate riscontrare non un qualcosa di sono eco, sono bio ma con dei fattori numerici molto chiari. Per quanto riguarda il rating noi naturalmente l'abbiamo strutturato come nei plus che vi dicevo prima, quindi l'ambiente e la salute sono sicuramente i due punti su cui lavoriamo quotidianamente, abbiamo 1700 prodotti in Caracol quindi era impossibile determinare una carta di identità univoca per tutte le tipologie di prodotto, mi spiego meglio, capite voi benissimo che un impermeabilizzante non può avere la stessa valutazione di un intonaco o che un adesivo per piastrello non può avere la stessa valutazione di un adesivo per parquet o naturalmente quelli che sono i componenti che lo caratterizzano e quelli che sono le prestazioni che devono essere svolte hanno effettivamente dei campi molto disparati l'uno dall'altro e quindi siamo dovuti naturalmente intervenire con vari tipi di certificazione e di classificazione. Noi abbiamo due tipi di classificazione, la linea Eco che prende la maggior parte dei prodotti Caracol e il rating Bio invece che vi presenterò tra poco che prende naturalmente i prodotti della linea Biocalce quindi naturalmente specifico per i prodotti di cui parleremo questa sera. Il rating funziona con una classificazione da 5 a 0, cioè naturalmente 5 a è molto virtuoso e quindi prende una serie di punteggi, 0 invece naturalmente come capirete bene voi è poco virtuoso. Tenete conto che ormai sono 4 anni che siamo sul mercato con questo tipo di rating e di classificazione. Credevamo effettivamente che dopo un anno o due al massimo almeno i nostri competitor che fanno parte del mercato dell'edilizia rispondessero un po' tono su tono nel senso che a un certo tipo di lavoro, a un certo tipo di scientificità e di numerazione ci fosse poi una risposta chiara. Questo non è ancora avvenuta, la attendiamo ancora. I prodotti Caracol naturalmente non nascono tutti quanti Eco 5 o Bio 5. Vi abbiamo consegnato nelle shopper che avete questa sera quello che è il catalogo Caracol, le schede tecniche sono presenti sul nostro sito online, anche quelle non le stampiamo per un motivo di ecosostenibilità, quindi non c'è bisogno di sprecare della carta, si possono venire vedere le schede benissimo anche semplicemente a monitor. Nel catalogo voi vedrete appunto che non tutti i prodotti Caracol sono Eco o Bio 5 ma ve ne sono con varie classificazioni, abbiamo anche effettivamente degli Eco e dei Bio 0. Perché? Perché quello che è un lavoro che è iniziato o almeno si è evidenziato circa 4 anni fa è un work in progress, quindi ogni anno dove possiamo cerchiamo di migliorare appunto la componentistica del prodotto e migliorare il proprio rating. Abbiamo anche effettivamente degli Eco 0. Questo è valido sia per la linea Eco che come dicevo anche per la linea Bio che è la classificazione della linea Bio Calce. Questo tipo di rating non è un capriccio da parte nostra, è una garanzia, è una garanzia che l'azienda vuole dare nei vostri confronti, quindi nei confronti del progettista, nel confronti dell'impresario e nei confronti anche di chi? Nei confronti del committente che è il committente di tutti quanti noi, cioè il proprietario dell'immobile. Questa mattina appunto ho avuto la possibilità di seguire alcuni cantieri nella vostra zona e sono andato a vedere una villa molto bella, molto interessante dove il proprietario era informatissimo su quelli che sono appunto le caratteristiche dei materiali da costruzione, su quelli che sono appunto le possibilità, come devono essere messe in opera, perché? Perché ormai il privato, grazie anche a internet, è sempre più informato. Non possiamo più un pochino raccontargli le nostre storie, perché effettivamente a dati certi, a valutazioni oggettive, il proprietario, il committente di tutti quanti noi sempre maggiormente si informa. Vi faccio vedere ad esempio come è strutturato un pack, un sacco che arriva in cantiere della Kercol. Vi è su ogni prodotto la sua marcatura in alto a sinistra, quindi se è un bio o eco 4, 5, 3, 2, vi dicendo. Vi è il Green Building Rating, quindi vengono codificati tutti quelli che sono e presenti i minerali riciclati, quelli che possono essere utilizzati all'interno del prodotto, quelli che possono essere le emissioni di anidride carbonica all'interno dell'ambiente. Una serie di dati naturalmente. Tutti quelli che vengono indicati sempre nel sacco i criteri di ecocompatibilità, la descrizione e i vantaggi di ecocompatibilità, la marcatura CE, la maggior parte dei prodotti da costruzione è soggetto a una normativa italiana o europea. La normativa e la marcatura CE non è assolutamente un capriccio, ma anzi è una grandissima garanzia che voi avete, che effettivamente quelli che possono essere i test e le prove da parte di un'azienda vengono fatti tutti quanti nella stessa maniera. Quindi quelli che sono i dati oggettivi che vengono fuori si possono confrontare. Non c'è un metodo Kerrcol, un metodo MAPEI, un metodo Weber o di altre aziende, c'è un metodo univoco che naturalmente è soggetto a marcatura CE e a una normativa specifica che varia in base al tipo di prodotto che si viene a realizzare. Qui vi faccio vedere brevemente quello che è ad esempio il rating del biocalci in tonaco. Come vedete è un bio 5, è classificato altissima efficacia. Vi farò vedere fra poco come noi abbiamo fatto dei test specifici per quanto riguarda il rilascio che possono esserci in ambienti chiusi di dei materiali da costruzione. Vi farò vedere specificamente perché appunto ha un'altissima efficacia con un 5 su 5, vedete in basso a sinistra nella parte bassa. Poi ad esempio vengono anche valutate quelli che sono per quanto riguarda i prodotti biocalci, il batterio statico e il fungistatico. Cosa vuol dire? I prodotti alla calce, la tradizione, venivano utilizzati come disinfettanti. Sapete benissimo che nelle stalle, per tornare a reminiscenze di carattere scolastico, si va anche alla Divine Commedia e i morti di peste a Firenze. Venivano naturalmente questi tipi di ambienti venivano disinfettati con la calce. Probabilmente in certe epoche non sapevano neanche perché, però avevano il risultato, noi sappiamo benissimo qual è il motivo. Perché? Perché la calce ha un pH fortemente basico e quindi parliamo di un pH 14, pH 13. Quando il pH è così basico crea un ambiente assolutamente non ideale per la proliferazione di funghi, muffe e batteri. Quindi è un disinfettante naturale e perché appunto non utilizzarlo. Perché batterio statico e fungistatico e non vi ho detto battericida e funghicida? Molto semplice, perché tutto ciò che è cida in italiano, funghicida e battericida, è un qualcosa che uccide. Ciò che uccide un fungo o un battere comunque non fa bene a noi. Vi farò vedere con dei test specifici fatti con un laboratorio francese, il Sestebe, come effettivamente di tutto altro tipo di discorso quando parliamo di batterio statico e fungistatico. Mettiamo ad esempio anche le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente. Quindi come vedete noi ci siamo dati un limite che è di 250 grammi al chilogrammo e ogni prodotto va nella tabellina a identificare quanta anidride carbonica in fase produttiva abbiamo immesso per realizzarlo. Ad esempio per quanto riguarda il biocalcitonico parliamo di 79 grammi. E poi naturalmente la cosa che vi dicevo precedentemente. È vero che i prodotti naturali prevedono l'utilizzo di materiali che arrivano dall'ambiente ma perché no quando possiamo ricicliamoli. Cioè effettivamente se abbiamo un puro marmo di Carrara che viene lasciato semplicemente all'interno di campi al termine della lavorazione del marmo perché non macinarlo e utilizzarlo all'interno dei prodotti. E quindi andiamo anche a indicare, non solo col marmo di Carrara ma con altri tipi di aggregati, qual è la percentuale di riciclato che mettiamo all'interno. Quelle che sono le possibilità con Kerkel, ve l'ho già abbastanza brevemente accennati, abbiamo 1700 prodotti, la possibilità di realizzare effettivamente una casa totalmente ecosostenibile con Carrara è possibile perché effettivamente andiamo dagli adesivi, andiamo dagli intonici, alle pitture, alle malte d'allettamento, agli adesivi per piastrelle e per parquet, andiamo agli impremiabilizzanti, abbiamo effettivamente la possibilità di assistervi in toto per quanto riguarda la realizzazione di una casa ecosostenibile. Sempre per dare maggiore tutela a voi, in rating voi vi potreste dire, beh perfetto ve lo siete fatto voi, ve lo siete confezionati, vi siete fatti in casa voi alla vostra tabellina, bella forza, vi piace vincere facile e questo naturalmente era effettivamente un tipo di osservazione che ci poteva essere fatta. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo preso un istituto svizzero e che è l'SGS, anch'io prima di entrare in questo tipo di lavoro non conoscevo l'SGS, ma l'SGS è effettivamente un istituto certificatore tra i più conosciuti al mondo, come dicevo prima a sei day in Svizzera e naturalmente abbiamo fatto certificare, abbiamo fatto una lettera di attestazione su quello che è il nostro rating, quindi sono venuti a verificare che non ci siamo fatti appunto un giochino tutto quanto ritagliato per il nostro tornaconto, ma che effettivamente da un punto di vista della serietà è stato fatto il lavoro come doveva essere fatto. Abbiamo così un pochino una volontà e un'ambizione che è quello effettivamente che il rating non sia solamente applicato ai prodotti Caracol, ma che venga preso come esempio e possa essere applicato effettivamente anche a tutti i materiali da costruzione, quindi un pochino anche da altre aziende. Entriamo un pochino nello specifico della linea biocalci, quindi perderemo anche un po' di eleganti, perderemo un po' di calce. Come vi dicevo precedentemente la linea biocalci nasce ufficialmente nel 2005, ma non è stato un capriccio, perché l'azienda non è che ha detto voglio impostare io una linea e imporla al mercato, in quegli anni chi di voi come progettista intendeva realizzare edifici ecosostenibili doveva servirsi un po' da tante aziende, gli intonici le prendevano da una parte, le pitture dall'altra, le matri d'allattamento dall'altra, magari c'era difficoltà di approvvigionamento e quindi quello che è stato la volontà dell'azienda è quello effettivamente di poter essere un unico referente e quindi di creare non dei prodotti, perché creare dei prodotti vuol dire poco, ma creare dei sistemi, dei sistemi pareti, dei sistemi che possono effettivamente arrivare a certi tipi di risultati che vi farò vedere. Sicuramente quello che è stato il focus è il miglioramento della salute. Vi faccio una domanda, che è la domanda che siamo fatti noi in azienda ormai quasi più di dieci anni fa. Per quale motivo gli intonaci, i prodotti da costruzioni devono avere solamente come caratteristica quello di rivestire o semplicemente quello di essere gradevoli da un punto di vista estetico e basta? Non c'è un vero e proprio motivo. Perché non incominciare, abbiamo fatto dieci anni fa un lavoro, incominciare a creare dei prodotti che siano coadiuvanti nella salute di chi li abita, cioè creare effettivamente delle possibilità di avere capacità diluenti di quelli che possono essere gli inquinanti, creare effettivamente la possibilità di risolvere i problemi di allergie, di spossatezza o eventualmente di irritazione. E quindi è stata quella la nostra volontà. Come vi dicevo precedentemente, questo per dare una risposta a quella che era effettivamente una richiesta da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando fai un lavoro del genere devi cominciare a darti una collaborazione con istituti che siano importanti e che abbiano già una conoscenza a livello internazionale. Il JRC è il laboratorio della Commissione Europea, ha vari tipi di distaccamenti come vedete in tutta Europa e ha vari tipi di laboratori e settori che hanno un ambito specifico. Abbiamo una fortuna. In Italia, a Ispra, che è un paese vicino a Varese, abbiamo proprio il laboratorio della Comunità Europea che è specializzato nell'indagine sulla qualità dell'aria indoor, quindi dell'aria interna. Questo laboratorio non è un laboratorio a pagamento, è un laboratorio della Commissione Europea, quindi è un laboratorio che viene sovvenzionato con cosa? Con le nostre tasse, con le tasse di tutti i paesi contribuenti della Commissione Europea, non si possono pilotare le analisi con il JRC, perché? Perché non richiede appunto nessun tipo di pagamento. Il JRC come funziona? Vai al JRC, proponi un progetto, proponi quello che hai, un'idea di, un'evidenziazione di un'idea che hai e appunto questo può essere sposato oppure può essere non sposato. Quando ci presentammo al laboratorio della Commissione Europea, la volontà di Keracol era quello di evidenziare effettivamente quali sono gli inquinanti che impattano sulla nostra salute e in che modo possiamo risolvere questo. A Ispra, appunto a Varese, hanno una camera che si chiama Indortron, questa camera è una camera unica al mondo che fa questo tipo di lavoro, va a misurare tutti quelli che sono le emissioni degli inquinanti all'interno degli ambienti. Per emissioni di inquinanti non intendo solamente proti da costruzione, intendo anche mobili, intendo anche detergenti per la casa, intendo anche deodoranti per la casa, intendo fibre che possono naturalmente costituire divani, legni che magari possono avere all'interno per la realizzazione formaldeide ad esempio. Quindi prende in considerazione tutti quelli che sono i normali elementi che costituiscono l'arredo di tutte quante le nostre case e fino a che punto ognuno di questi può impattare negativamente. Al termine della ricerca fatta appunto dal GRC sono venuti fuori che vi sono cinque principali inquinanti che sono comunemente presenti nelle case di tutti quanti noi e che impattano in maniera più o meno sulla nostra salute ma anche a livello di cancro ad esempio in certi casi. I cinque inquinanti sono il toluene, il pinene, la formadeide, l'anidride carbonica e l'umidità, non ultima per importanza. Come vedete tutti questi tipi di inquinanti li troviamo in vari tipi di sostanze. Il toluene ad esempio nel fumo di sigaretta, nei solventi, nei diluenti, nelle vernici. Il pinene lo troviamo in un elemento che è sempre maggiormente presente nella nostra casa, cioè i profumatori per ambiente, sempre nelle pubblicità si passa lo sprozzino e vi dicendo perché alle nostre signori piace effettivamente abitare in case profumate. Profumate sì ma da un punto di vista ambientale della nostra salute non fanno bene perché se vi è all'interno del pinene questo impatta negativamente sulla nostra salute. I detergenti, tutti quanti noi puliamo la casa, quindi i detergenti per ambiente rilasciano, hanno dei rilasci che influenzano naturalmente la nostra salute. La formaldeide nelle regine, negli adesivi, nei materiali compositi, nelle pitture, nelle vernici, vi parlerò stasera di cosa intendo per VOC e per particelle organiche volatili. La CO2, quindi l'anidride carbonica, il fumo di sigaretta, i proti da combustione, tutti quanti magari caldaie, fornelli in case, quindi producono anidride carbonica. E non per ultima perché naturalmente tutti quanti noi che siamo progettisti o se c'è qualche impresario edile sa benissimo che l'umidità è effettivamente uno di quei problemi che attanagliano un po' in vari tipi di situazioni, dalle condense, risalite capillari, infiltrazioni, vi dicendo, molti manufatti che si vanno a realizzare. Quello che sono, perché gli edifici si sono malati nel tempo o comunque creano, hanno sempre maggiormente delle problematiche, perché abbiamo perso un pochino quelli che sono le nostre tradizioni. La nostra tradizione è quella che è sempre stato, la muratura a spessore e grazie a Dio effettivamente dal 2006 in poi, quindi con l'avvento del DPR 5909 o prima legge 192, 133 con tutti gli anni che ha preso, i nomi che ha preso negli anni, effettivamente cosa è successo? Si credeva negli anni passati che con gli isolanti termici si potessero realizzare anche delle paretine sottili e che effettivamente da un punto di vista della trasmittanza e quindi del benessere, del comfort interno, si riuscissero a raggiungere gli stessi valori e gli stessi risultati che succedevano invece con pareti di maggiori spessori. E questo, abbiamo visto, non è stato assolutamente possibile. Avrete visto voi stessi negli ultimi anni come siamo tornati a dei blocchi che fino al 2006-2007 erano spessori da 25 per fare appunto i paramenti murari esterni, invece siamo ritornati a realizzare dei blocchi da 40, 45, 48 cm, quindi siamo tornati effettivamente alla massa. Voi soprattutto che abitate queste zone dove, dicevo anche oggi, è maggiormente impattante che cosa? Il grande caldo piuttosto che il freddo, voi dovete stare molto attenti a un discorso di inerzia termica perché è quello il punto sicuramente più focale su cui interessarsi. Come mai quando entriamo in una chiesa magari romanica o antica o una vecchia villa palladiana, fuori ci possono essere 40 gradi, un caldo incredibile, entrate all'interno di questi ambienti e il benessere è subito avvertibile, senza naturalmente nessun tipo di ausilio, di condizionatori e via dicendo. Perché? Perché le murature a spessore appunto abbattono quello che è un discorso di inerzia termica, perché le murature a spessore naturalmente ci permettono effettivamente di poterci proteggere. Viene codificato tra l'altro anche un peso che lascia un po' il tempo che trovo. Sapete benissimo che sotto i 240 kg al metro quadrato una parete è considerata leggera, sotto, perdonatemi, sopra i 240 kg al metro quadrato invece una parete viene considerata pesante. Via questo limite che appunto la normativa ci dà. Poi un'altra cosa importantissima sono le malte e gli intonaci alla calce. Purtroppo quando si parla con anche capimastri, capicantieri recentemente, sembra che il cemento faccia parte della tradizione italiana. No. Il cemento fa parte della tradizione italiana perché? Perché nell'immediato dopo guerra, nella seconda guerra mondiale, l'Italia aveva una necessità di ricostruirsi velocemente e quindi naturalmente il cemento ha permesso effettivamente rispetto alla calce questo tipo di possibilità. Ma parliamo quindi di... l'ultima guerra è stata intorno al metà del novecento e quindi parliamo di un legante che è stato abusato e utilizzato in maniera pesante negli ultimi sessant'anni, ma precedentemente quello che è un legante della tradizione italiana è appunto sicuramente la calce. Vi farò vedere perché specificatamente negli intonaci. Attenzione che cosa? Attenzione alle pitture. Con dei cicli pittorici di pochi micron di spessore si possono andare a continuare edifici che possono essere oggettivamente ben realizzati, ben pensati, ben costruiti o si può rovinare invece un edificio con pochi micron di pittura perché magari su una muratura che è realizzata in sasso, in tuffo o in laterizio con intonaci alla calce che permettono comunque insieme a questi elementi costruttivi un'ottima traspirabilità, andarlo a finire magari con una pittura acrilica o un intonacchino acrilico vuol dire vanificare tutto ciò che è stato invece precedentemente realizzato o pensato. Io ci tengo a sottolineare una cosa, non vi sto parlando che il cemento è il male e la calce è il bene, non voglio che venga fuori un discorso del genere, dico semplicemente che i materiali da costruzione possono diventare buoni o cattivi in base al tipo di utilizzo che ne facciamo noi, cioè non esiste un assoluto materiale positivo o un materiale negativo, ok? Perché? Perché se vi dicessi da domani di realizzare dei casseri, fare delle gettate portanti con la calce invece che con il cemento, realizzare dei calcestruzzi, voi mi direste sei un povero pazzo e avreste anche ragione, perché? Perché sicuramente la calce ha delle residenze meccaniche a compressione circa dieci volte più basse a quello che possono essere invece la realizzazione di un calcestrusso. Allora vi faccio una domanda, rivolto alla frittata, e allora perché se quando parliamo di struttura portante il calcestrusso va bene e la calce invece non sarebbe adeguata, quando invece realizziamo gli intonaci utilizziamo il cemento invece della calce, perché? Perché? Perché ad esempio il cemento ha certi tipi di caratteristiche assolutamente indiscutibili, ha degli svantaggi, ha una struttura rigida rispetto alla calce, decisamente un alto modulo elastico invece che un basso modulo elastico, ha una scarsa traspirabilità, sappiamo benissimo che la permeabilità al vapore di un tonaco cementizio è un mu intorno al 20 quando invece si va su un mu 6, un mu 3 per quanto riguarda gli intonaci a base calce e quindi naturalmente questo è deficitario. La conducibilità termica, abbiamo parlato finora di la possibilità quando realizziamo degli intonaci esterni di essere coadiuvanti nel beneficio dell'ambiente interno, allora perché utilizzare il materiale elegante e costruttivo per antonomasia più conduttivo che è appunto il cemento? Quando naturalmente un materiale è molto conduttivo e avvengono la formazione di condense, la muffa poi naturalmente lo sapete benissimo voi, è la conseguente realizzazione perché un ambiente dove si viene a creare un ponte termico o la formazione di condensa è l'ambiente ideale per la proliferazione di funghi, muffe e batteri. Quindi naturalmente, come dicevo prima, attenzione, c'è materiale e materiale, c'è il giusto impiego e quindi naturalmente la giusta realizzazione di quello che può essere l'edificio. Qui ho portato un esempio molto banale, l'edilizia degli anni 70, 60-70, 50-60-70 diciamo, ha provocato dei disastri abbastanza seri e questo ne è un esempio. Una città come Torino, ad esempio, che ha vissuto appunto intorno alla metà del secolo scorso la necessità di importare manodopera dal sud e quindi di realizzare grossi edifici e grossi insediamenti residenziali, veniva realizzato con delle gettate di calcestruzzo naturalmente e veniva tamponato con dei pannelli prefabbricati, questo tipo di costruzione, in cemento. Il tutto quanto veniva poi naturalmente decorato con che cosa? Con quelli che probabilmente sono stati tra i materiali peggio pensati nella storia dell'edilizia italiana che sono quelli che vengono chiamati comunemente i plasticoni o quelli che sono appunto gli intonachini o le pitture elastomeriche. Perché? Perché naturalmente adesso stiamo cercando di andare a risolvere alcuni tipi di problemi. Un edificio del genere, ad esempio, ha dei grossi problemi di vivibilità. Perché? Perché parliamo di edifici totalmente in cemento, quindi altamente conduttivi, quindi con la facile possibilità della creazione di ponti termici, perché naturalmente non si parlava in quegli anni di isolamenti o di cappotti o via dicendo, e quindi naturalmente la vivibilità all'interno era veramente scarsa, problemi di funghi, di muffe, condense, scarsa traspirabilità. Tutti quanti noi sappiamo benissimo che in edifici con questo tipo di concetti andiamo anche adesso a intervenire su il rifacimento di che cosa? Magari di sbollature esterne. Questi tipi di rivestimenti esterni avevano un concetto in partenza. Siccome la parte, diciamo, più gravosa poteva essere data da pioggia, da neve, da freddo, da nebbia, allora cosa facciamo? Creiamo un materiale da costruzione che faccia una sorta di impermeabile, che mi protegga il sistema edificio, così naturalmente io creo effettivamente un edificio che nel tempo avrà necessità di scarsa manutenzione. Probabilmente concettualmente poteva anche andare bene, da un punto di vista pratico questo non è assolutamente avvenuto. Infatti oggi ci siamo costretti a intervenire sulla riqualificazione di quel tipo di concetto, quel tipo di costruzione. Tanto è vero, ad esempio, che qui ho messo alcuni esempi pratici, l'edilizia di quegli anni in città, grandi città come possono essere Torino o Milano, hanno talmente dei costi di riqualificazione alti che gli istituti popolari hanno preferito l'abbattimento piuttosto che la messa naturalmente in sistemazione. Quindi ci fa capire come effettivamente quello sia stato un concetto di fallimento totale. Questo naturalmente è quello che può succedere, quello che è l'esempio più banale. E come dicevo prima, un intorno che è realizzato a cemento è caratterizzato da un muventi, da un'elevata conducida termica, qui ho messo un lambda di 0,8, sono stato anche buono, il cemento ha un lambda, saprete voi benissimo anche dei vostri software di calcolo, più vicino a 1, a 1 che non a 0,8 di lambda. E naturalmente poi quei sono questi risultati. Ho messo qui una serie di foto, ma potevo metterne anche altre. Vi faccio un esempio pratico, ma numerico. Se io realizzo lo stesso edificio e lo posiziono con il stesso tipo di esposizione, magari uno di fianco all'altro, e lo realizzo naturalmente tutto quanto in tufo o tutto quanto in laterizio, questo non è importante, ma l'importante è che entrambi gli edifici vengono realizzati nella medesima maniera, con la medesima tecnica costruttiva. E il primo lo intonaco e lo realizzo tutto quanto a cemento, con malte d'allettamento, con intonaci a base cemento. Il secondo invece lo faccio con intonaci e malte d'allettamento a base calce, con la linea biocalce. Questo è la differenza che può avvenire. Se il primo ha un muventi e quindi la traspirabilità e la capacità di resistenza al passaggio del vapore è molto alto, cosa succede? Come vedete nel primo disegnino, tutte quelle che sono la formazione di condense rimangono all'interno. Sapete che noi siamo dei grandissimi produttori di condensa. Perché? Uno perché respiriamo. Infatti se noi avessimo misurato il tasso di umidità prima di questo incontro e al termine di questo incontro, l'umidità relativa all'interno di questo ambiente è decisamente aumentato. Non solo per quanto riguarda l'edride carbonica, ma anche per quanto riguarda l'umidità relativa. Perché la vita che conduciamo provoca una alta produzione di vapore? Perché? Perché mettiamo l'acqua sul fuoco per cuocere la pasta, perché facciamo la doccia, perché magari abbiamo i bambini in casa che si fanno qualche corso e qualche sudata, perché appunto vi sono tutto quello che anche noi stessi dormendo, io è un dato che dimentico sempre, ma credo che produciamo qualcosa come 3 litri di vapore e acqua e a notte ognuno di noi semplicemente dormendo, quindi in fase di stanchezza. Quindi vi fa capire effettivamente come questo tipo di produzione di umidità deve trovare un suo sfogo naturale, altrimenti poi succede il problema della formazione di condensa. Se la prima casa ha un Mu20, una casa realizzata intorno con la calce e il biocalce, parliamo di un Mu6, quindi vuol dire che abbiamo un indice di permeabilità al vapore, quindi di traspirabilità, maggiore del 230%. Storici, mi viene in mente il porto di Cosa in Toscana, che è uno dei porti ancora in piedi più antichi d'Italia, veniva appunto realizzate le pile ai del ponte con le calci idrauliche e abbiamo ancora appunto le pile che resistono senza nessun tipo di problema. La calce aerea può prendere vari tipi di illuminazione, come vedete, fiori di calce, calce spenta, calce aerea, calci idrata, idrossido di calce e che differenza c'è tra la realizzazione di un prodotto, di una malta, di un intonaco e la produzione invece di una pittura con del grassello di calce. Non so se sapete che la calce fondamentalmente cos'è? È una pietra, è un sasso. È un sasso che viene naturalmente cotto. Questo tipo di sasso può avere una composizione mineralogica di due tipi. Può essere totalmente un calcare, ok, e quindi è nel mondo delle calci aeree, o può essere un calcare che viene chiamato marnoso. Marnoso perché? Perché all'interno ha una frazione di argilla. L'argilla è proprio quella componente naturale che è intrinseca all'interno delle cave che naturalmente viene dall'indice di traulicità e quindi differenzia effettivamente una calce aerea da una calce idraulica. In commercio vi sono altri tipi di, anche altri tipi di leganti, ma grazie a Dio vi sono delle normative che negli ultimi anni, dal 2005, normano effettivamente il mondo delle calci, quindi i famosi furbetti che potevano succedere qualche anno fa, che dicevano prodotti eminentemente idraulici o eminentemente a calce aerea, dove magari era tutto cemento e c'era un pugnetto di cemento, e il pugnetto di calce, grazie a Dio, questo dal 2005 non può più avvenire perché c'è una normativa che è la EN 459-1 ma è uno che regolamenta a livello europeo quello che è la composizione delle calci. La calce viene cotta a una temperatura di circa 850-900 ai 1000 gradi massimo, perché sono due le differenze che vanno a differenziare una calce da un cemento, la composizione mineralogica, come vi dicevo poc'anzi, e la temperatura di cottura. Sotto appunto i 1000 gradi avviene la temperatura di cottura della calce, sopra i 1300 gradi invece avviene la clinkerizzazione che è tipica del mondo del cemento. Altra cosa molto importante, cosa differenzia una calce da un cemento? Che la calce necessita di essere spenta. Sapete benissimo che i vecchi cantieri si cuocevano all'interno di forni interrati la calce, la calce da sasso diventava polvere, la polvere veniva raccolta, messa all'interno di vasche e poi naturalmente veniva spenta con l'acqua e lasciata decantare. Come vi dicevo prima, possono essere due tipi di possibilità. In gergo tecnico si dice rispegnere la calce con acqua stecchiometrica, cioè viene quantificato un quantitivo di acqua per quel quantitivo di polvere che viene realizzata e si realizzano appunto i prodotti a base calce che possono andare nel mondo delle malte allettamento, degli intonaci. Quando invece si realizzano il famoso grassello di calce che è apprezzato da molti pittori per la sua plasticità e per la sua facilità di applicazione, il discorso è leggermente diverso perché successivamente alla fase di cottura della calce, esso viene messo appunto in queste vasche, viene messo con un eccesso di acqua, quindi vi è sempre un velo, qualche dita superiore a quello che è il livello della polvere e viene lasciato maturare. Questa maturazione di mesi, in talunni casi anche di anni, fa sì che appunto la calce abbia la possibilità di formare dei cristalli molto morbidi e di creare quello che è il grassello di calce, che non so se tutti quanti voi avete avuto la possibilità di vedere, è quasi come un formaggio liquido, molto bianco e molto plastico. Cosa molto importante, CARECOL non è proprietaria di nessuna cava di calce, quindi noi non abbiamo nessun tipo di vincolo nel spingere assolutamente un tipo di calce, noi acquistiamo la calce, la calce come vedete viene spiegato anche lì giù, vedete NHL 3.5, NHL sta per un acronimo inglese che sta per Natural Hydraulic Lime, cioè calce idraulica naturale. La calce idraulica naturale ha tre tipi di classi di resistenza a compressione, NHL 2, NHL 3.5, NHL 5, quindi vuol dire che tiene resistenza a compressione di 20, 35 o 50 kg al centimetro quadrato naturalmente. Come capite parliamo di resistenze meccaniche molto inferiori rispetto al cemento, quando parliamo di un 32,5, un 42,5, un 52,5 parliamo di un 325, 425 o 525 kg a compressione, quindi valori effettivamente molto più alti. Ecco perché prima facevo il discorso tra una gettata in calce strusso e una gettata ipotetica in calce. Però credetemi, questo tipo di valutazione anche di solo carattere meccanico è un po' forviante, perché? Perché questo tipo di resistenza meccanica viene presa a 28 giorni, a 28 giorni ormai il cemento ha raggiunto l'apice delle sue resistenze meccaniche. La calce è diversa, la calce ha un'incarbonatazione, induramento progressivo nel tempo. Sapete che sono stati qualche anno fa fatti dei carotaggi al Pantheon a Roma e alcuni intonaci a base calce dell'epoca hanno resistito anche a 400 kg a compressione al cm2. Perché? Perché l'approvvigionamento dell'andride carbonica che avviene dilungato nel tempo comporta sempre maggiormente una capacità meccanica nel resistere appunto a compressione. Quindi effettivamente questa valutazione è fatta a 28 giorni e per la calce è un pochino riduttiva. Ma siccome sappiamo benissimo che in Italia i cementieri hanno sicuramente un potere economico maggiore dei produttori di calce è stato codificato questo tipo di valutazione a 28 giorni. Come dicevo poc'anzi, noi non siamo proprietari di nessun tipo di cava di calce. Quindi il fatto che utilizziamo, vi verrebbe magari normale pensare ma perché Kerkel utilizza una 3.5 invece che una NKL5 che ha una resistenza meccanica superiore, facciamo dai 35 ai 50 kg? Perché fare una valutazione di carattere meccanico sul puro elegante di un prodotto premiscelato è sbagliato. E vi spiego perché. Quando noi ci approvvigioniamo della calce, noi abbiamo 5 produttori tra Italia e Europa che ci forniscono appunto la calce, noi facciamo una valutazione semplicemente di purezza. Noi abbiamo un controllo qualità molto efficiente, all'interno di quel laboratorio che vi ho fatto vedere che è il Gear Lab Kerkel quando arriva un camion di materia prima, il controllo qualità abbiamo degli addetti che fanno dei prelievi all'interno del silo che arriva con il camion facciamo una valutazione immediata di quello che è il grado di purezza della calce in seguito ci mettiamo un quarto d'ora a fare questo tipo di valutazione, siamo diventati veramente abbastanza veloci al termine di queste prove diamo l'ok per lo scarico o mandiamo indietro il camion. Non vi nascondo che capita spesso che il camion venga mandato indietro perché magari all'interno del camion c'è un contenuto di solfati o di clorure o di sali più alti di quelli che noi diamo come limiti di standard magari troviamo che il CS3 che è tipico dei cementi a differenza del CS2 che è la molecola tipica invece della calce è più propensa verso il cemento che non la calce quindi che magari il nostro fornitore ha fatto un pochino non dico il furbino ma ci ha voluto dare una partita un po' di non di estrema purezza quindi la valutazione che facciamo in Kerkel è di purezza del legante che arriva in stabilimento quello che è la resistenza meccanica non è dato dal semplice legante ma è dato da che cosa? è dato dall'aggregato quindi dalla curva glonometrica che poi si dà con vari tipi di aggregati che vi farò vedere quindi la valutazione che noi facciamo, questo ve lo dico perché spesso magari ci viene detto ma perché voi non utilizzate l'NHL5? e questo è il motivo perché facciamo una valutazione di carattere di purezza e non di resistenza meccanica perché la resistenza meccanica si valuta su quelle che sono appunto le normative che ad esempio negli intonaci vanno a classificare in CS1, CS2, CS3, CS4 quindi le classi di resistenza a compressione totalmente importante quanto la calce è la postolana perché è importante la postolana? la postolana è importantissima soprattutto quando parliamo di materiali, di intonaci per il problema della risetta capillare ma in generale per quanto riguarda le malte all'altamento e gli intonaci in genere perché? Perché la postolana che è un elemento naturale, deriva dalla zona di postuoli è un elemento di carattere magmatico, magmatico eruttivo tra l'altro, non di colaggio perché è importantissimo che appunto il materiale venga lanciato in aria e abbia quindi un velocissimo spegnimento perché dà questi tipi di caratteristiche che vi farò vedere la postolana associata alla calce ha una reattività all'aggressione salina pari a zero i romani già ai tempi utilizzavano l'associazione di calce e postolana per realizzare le prime, passatemi il termine, guaine impermeabilizzanti le prime guaine impermeabilizzanti erano gli acquedotti o le cisterne i romani le realizzavano con una boiaca di calce aerea e postolana perché? Perché si viene a creare un microporo tale che la permeabilità è assolutamente non in discussione ma la molecola dell'acqua è più grande e quindi si crea effettivamente la prima possibilità di fare delle guaine impermeabilizzanti vi faccio vedere un saggio che è presente tra l'altro all'interno del nostro laboratorio si chiama saggio di Anstet come funziona questo saggio? noi prendiamo un legante poi prendiamo il 30% di solfato di calcio, di gesso che è quello che provoca effettivamente le trangite e gli spaccamenti dei nostri intonaci le premiamo e formiamo una pastiglia come vedete al lato sinistro dei quattro provini questa pastiglia appunto realizzata per pressione viene appoggiata su una piestrella di biscotto perdonatemi in termini si chiama biscotto ma è una piestrella di cotto che è all'interno di una vaschetta con due dita d'acqua quindi naturalmente va a mimare in maniera assolutamente progressiva quello che è un problema di risetta capillare perché abbiamo l'acqua, abbiamo il cotto che assorbe l'acqua e abbiamo il solfato di calcio all'interno della pastiglia al termine della prova possono essere variabili va da un minimo di otto mesi ma noi abbiamo alcune pastiglie che sono lì anche da 4-5 anni questo è il risultato il cemento Portland, la pastiglia iniziale alla fine del test ha avuto un'espansione volumetrica maggiore del 40% vi faccio una domanda se io idealmente andassi con il dito a premere la pastiglia del test numero 1 a destra cosa succederebbe? si sbriciolerebbe probabilmente io, esatto, si sfalderebbe e se quella non fosse una pastiglia ma fosse un intonaco cosa vorrebbe dire? che sarebbe più quello per terra che quello sulla parete perché naturalmente avendo un aumento di volume si disgrega, perde in resistenza meccanica e cade a terra come vedete maggiore del 40% il cemento Portland la calce idraulica artificiale quindi dove la componente dell'argilla viene aggiunta in maniera artificiale e non è intrenseca all'interno della cava ha comunque un'espansione del 30% la calce pura, senza l'ausilio della pozzolana ha un'espansione inferiore al 10% biocalce, quindi l'associazione tra la calce e la pozzolana dove la pozzolana come dicevo poc'anzi vi dà la non reattività all'aggressione salina abbiamo un'espansione inferiore all'1%, lo 0,8% quindi la pozzolana, ecco perché vi dicevo ha un'importanza altrettanto pari a quello che è appunto l'utilizzo della calce poi noi utilizziamo un'altra serie di sostanze naturali che vanno naturalmente a creare quello che è la performance che bisogna raggiungere se è una colla a base calce, se è uno stucco a base calce se è un massetto a base calce o se è un'intonaca a base calce voi capite che in base al tipo di lavoro che deve fare noi utilizziamo uno o l'altro di questi additivi adesso vado un po' veloce perché mi sono un po' dilungato sempre di fondamentale importanza sono le certificazioni non entro nello specifico ma questi non sono semplici marchietti colorati che noi mettiamo a nostro piacimento per grafica sui sacchi ma sono una serie di certificazioni che sono veramente molto severe e che ci fregiamo appunto di avere poi eventualmente se dopo rimaniamo qua qualcuno di voi ha qualche domanda specifica su certificazione mi soffermo quindi la possibilità finale è di fare effettivamente una casa che ha la costruzione con una malta allettamento a base calce la deumidificazione, l'intonaco, la decorazione e abbiamo anche tra l'altro un intonaco termico fatto con calce, pietra pomice e sughero che è un intonaco termico che si chiama biocalce termintonaco con un lambda di 0,075 quindi quello proprio specifico per l'isolamento termico specifico per i palazzi tutelati voi sapete benissimo che andare a isolare un palazzo vincolato con un sistema classico in EPS non è assolutamente permesso dalle sovraintendenze quando invece naturalmente vi è la necessità di una ristrutturazione di un edificio vincolato e vi è appunto la volontà da parte vostra come progettista nel migliorarne anche quello che è la coibentazione termica col biocalce termintonaco si può fare perché? Perché quando si presenta e ci è già capitato più volte alla sovraintendenza la composizione del prodotto che è calce, pietra pomice e sughero tre elementi assolutamente naturali nessuna sovraintendenza ha mai posto il veto su questo tipo di risultato è vero che vi parlo di un lambda di 0,075 non vi parlo di un lambda di 0,035 come può essere un EPS però capite voi voi stessi che comunque posso essere in grado di isolare termicamente ugualmente e parlo magari di un M6 del nostro intonaco contro invece gli spessori gli spessori naturalmente sono sempre molto secondari al tipo di parete e quando ci si approccia a un isolamento termico bisogna vedere innanzitutto di che materiale parliamo e di che spessore è la parete diciamo che vi è già facendo un discorso piuttosto generale poi il calcolo della trasmittanza come sapete benissimo invece è qualcosa di più specifico facendo un discorso generale dai 4 cm in poi di spessore di intonaco incominciamo già ad avere effettivamente dei benefici non indifferenti questa sera vi parlerò specificatamente della deumidificazione della deumidificazione che è probabilmente insieme all'isolamento termico una delle problematiche in cui quotidianamente ogni progettista si trova a dover combattere il problema della deumidificazione è stato che fino a poc'anzi io amo un po' paragonare la deumidificazione un po' come quando si può pulire casa e invece di raccogliere quello che è la sporcizia e la polvere alzare il tappeto e mettere la sporcizia sotto al tappeto perché? perché finora non ci si è mai interessati effettivamente quando si parla di umidificazione di come si comporta la parete cosa voi richiedete a un intonaco deumidificante? che non si sfaldi che non si macchi che non crei problematiche di carattere visivo e quindi il vostro cliente sia soddisfatto da un punto di vista estetico di quello che è invece in partenza un muro che presenta delle problematiche di umidità questo è sbagliato o perlomeno è un tipo di approccio un po' vecchio perché quello che è stato naturalmente la nostra volontà con il nuovo sistema biocalcio e t'asciugo è di cominciare invece a parlare di deumidificazione di disidratazione del muro e vi farò vedere come abbiamo risolto il problema qui in questa sezione ho messo un po' quelli che sono in generale i problemi legati all'umidità possono essere di vario tipo partendo dall'alto verso il basso il primo la risetta capillare che conosciamo tutti quanti la seconda invece magari verso il basso l'infiltrazione e il terzo ed ultimo invece magari perché vi è la presenza di falde acquifere prima di dicendo infiltrazione anche magari dal pavimento per quanto riguarda il concetto di noi in Kerrkoll è il seguente quando parliamo di interventi sopra alla linea di terra noi parliamo di deumidificazione quando parliamo di interventi al di sotto della linea terra invece parliamo di impermeabilizzazione sono due termini che sono completamente differenti il primo fermo il primo scusate permette comunque la traspirabilità il secondo cioè quindi quando si parla di impermeabilizzazione la stoppiamo, la fermiamo parliamo però del primo nostro problema più annoso che è il problema della risetta capillare questo è un classico esempio come si presenta inizialmente sapete benissimo con un muro con intonaci umidi con distacchi, sfarinamenti il classico sale che si viene a creare in superficie e questo andamento a serpentone l'altezza può essere variabile sapete benissimo che quando si parla di sale è un po' improprio il termine i sali, si parla di più sali cloruri, solfati o nitrati sono i tre principali sali per quanto riguarda l'altezza ad esempio sapete che i nitrati che sono i sali principalmente presenti in ex talle o comunque magari dove per decenni o anche secoli hanno stazionato animali che quindi naturalmente hanno fatto quello che dovevano fare da un punto di vista fisiologico questi naturalmente questi loro menzioni entrano nel terreno e poi pian piano naturalmente vengono assorbiti dalle murature solitamente questi tipi di edifici hanno all'interno delle forti presenze di nitrati e sono tra i sali che hanno una capacità di risalita tra le più alte qual è la causa principale del livello di risetta capillare? innanzitutto la porosità dei materiali che costituiscono la parete in origine e poi naturalmente anche il tipo di approvvigionamento cioè un conto è se c'è una falda un conto è se invece c'è una semplice risalita da un terreno che non presenta nessun tipo di fondazione le forze in gioco sono molto semplici ci sono due forze in gioco che determinano quello che è la risetta capillare e sono derivanti semplicemente da che cosa? dalle tensioni superficiali il primo che vedete in alto a destra parliamo di liofilo o parliamo di liofobo vi faccio un esempio molto banale ho un tavolo in legno e un tavolo in formica prendo una pipetta con una goccia d'acqua e la faccio cadere sul tavolo in legno non trattato naturale e su un tavolo in formica sul tavolo in legno che tipo di risultato avrò? il primo liofilo quindi ci sarà un assorbimento da parte del legno perché vi è una bassa tensione superficiale e quindi un abbassamento di quello che è appunto diciamo l'arco della goccia d'acqua il secondo invece su un tavolo in formica dove la tensione superficiale di un materiale costituito plastico diciamo è maggiore io vedo proprio la pallina di acqua che si va a realizzare sopra quindi qui parliamo semplicemente di forze in gioco tra molecole quando poi naturalmente trasportiamo questo tipo di concetto di discorso all'interno di un capillare la cosa naturalmente vive le stesse tipi di discorsi quindi la tensione superficiale di quelli che sono i capillari possono favorire o non favorire che cosa? la risalita dell'acqua dell'acqua misto sale non dimentichiamocelo perché questo qua è l'elemento negativo quello che è la presentazione in sezione di un problema di risalita capillare presenta fondamentalmente due tipi di livelli anzi tre tipi di livelli perdonatemi avete un primo tipo di livello che qui è caratterizzato con la lettera C2 dove costantemente estate-inverno rimane bagnato ok? voi vedete l'intonaco bagnato e neanche tanto rovinato poi vi è un livello tra C1 e C2 dove invece vi è una situazione di bagnasciuga cioè tra l'estate e l'inverno vi è appunto un maggiore approfondimento d'acqua o un minore approfondimento d'acqua e quella effettivamente cos'è? è la zona più degradata ok? perché? perché naturalmente voi capite benissimo che questo asciugamento e bagnatura della superficie fa sì che cosa? che i sali appunto facciano il loro lavoro quello di sono come tanti piccoli martinetti pneumatici che lavorano all'interno dell'intonaco aumentano il proprio volume fino a 6 volte un cristallo di sale in presenza di umidità e si restringe in assenza di umidità per questo lavoro fallo oggi fallo domani alla fine crea il classico serpentone che a metà è totalmente rovinato poi superiormente a quel livello lì è tutto orante asciutto e quindi abbiamo un livello prima e un livello dopo dove effettivamente l'intonaco non è particolarmente rovinato e un livello centrale invece dove avviene il disastro cioè nella zona di bagno asciuga quelle che sono state le tecniche di deumidificazione nel tempo sono svariate tra le più invasive e le più impattanti positivamente e le meno impattanti questo ad esempio è difficile per noi progettisti andare a pensare a posteriori la sistemazione di un lavoro del genere e spesso ad esempio anche per quanto riguarda la realizzazione di contropareti con bocche di lupo e vi dicendo non sono assolutamente dei risultati che possono garantirci perché? perché come vedete benissimo quando abbiamo una parete che ha una duplice tipo di approvvigionamento sia di risetta capillare che di acqua di contatto e andiamo a realizzare abbiamo anche come vedete col tratteggio un livello di umidità abbastanza alto se noi andiamo a creare una controparete appunto con una reazione a griglia noi abbiamo sì risolto il problema dell'acqua di contatto ma la risetta capillare non l'abbiamo risolto quindi comunque mantiene una problematica di umidità e credetemi che ancora oggi per quanto le strumentazioni possono appunto avere delle ottime evoluzioni è sempre molto difficile arrivare in cantiere e determinare in problemi del genere quanto è dovuto a acqua di contatto e quanto è dovuta acqua di risalita il 99% delle volte che mi è capitato di intervenire in problematiche del genere era sempre un'azione congiunta tra le due umidità influenti che parlare dello sbaramento meccanico orizzontale a parte che se parliamo di qualcosa assolutamente fuori legge anche i terremoti che sono avvenuti da noi in Emilia o all'Aquila fanno sempre maggiormente propendere per non assumere questi tipi di soluzioni uno perché non vanno effettivamente a risolvere bene il problema dell'umidità perché pensate su quella muratura lì poi io comunque gli andrò a realizzare un intonaco e l'intonaco farà esattamente da ponte da bypass tra appunto lo sbaramento prima e dopo l'umidità quindi non sempre risolve il problema ma soprattutto da un punto di vista statico è una soluzione da non pensarci gli sbaramenti orizzontali e le barriere chimiche le barriere chimiche è una soluzione che negli anni e ve lo dice una persona che prima di entrare in Kerkel come progettista ne ho fatte veramente tante concettualmente può anche essere un lavoro fatto bene nel senso che andiamo a creare la peggior parte delle volte il liquido che viene iniettato è di origine silossanica quindi si va a variare quello che vi dicevo prima la tensione superficiale porto il liofilo al liofobo e quindi faccio sì che appunto non vi sia all'interno del capillare questa capacità nel portare su l'acqua e il sale però qual è fondamentalmente il problema che interventi del genere vengono fatti in fase di ristrutturazione non viene mai fatto sul nuovo altrimenti vuol dire che il lavoro non è stato fatto concepito bene e in fase di ristrutturazione è sempre molto difficile capire com'è costituita la parete all'interno vi sono dei mancamenti di materiali vi sono delle spaccature quindi il liquido magari può prendere strade che noi non potevamo pensare non si va quindi a creare in maniera uniforme su tutto il perimetro e sapete benissimo che l'acqua è fantastica ne puoi trovare col tempo quello che è appunto la strada per manifestarsi nuovamente quindi purtroppo non sempre ha una buona realizzazione poi ci sono quelli che vengono e conoscerete sicuramente tutti quanti i famosi intonaci macroporosi come funzionano gli intonaci macroporosi sono intonaci appunto che vengono realizzati con una porosità eccessiva con una porosità diciamo esasperata in modo da avere una forte capacità evaporante quindi portare fuori quelle che sono le condense hanno un bel talone d'achille questi signori questi intonaci perché perché io amo un po' paragonare gli intonaci di umidificanti macroporosi alla vostra doccia quando voi comprate la doccia di casa quando è nuova 100 fori e da 100 fori esce l'acqua ok poi pian piano cosa succede il calcare il calcare va a otturare pian piano i fori e dopo magari 5-6 anni che avete quella doccia i famosi 100 fori da cui usciva l'acqua cominciano a diventare 50-30-20-2 e partono due zampilli una destra e una sinistra e quindi si è pregiudicato la vostra doccia di casa l'intonaco macroporoso funziona nella medesima maniera cioè voi provate a pensare di avere un intonaco che ha dei macropori che hanno dimensionalmente la possibilità di far entrare che cosa la soluzione di acqua e sale l'acqua evapora benissimo perché naturalmente col caldo con il vento con la ventilazione che avviene sulla superficie dell'intonaco l'acqua evapora ma il sale no il sale non evapora il sale si deposita pian piano all'interno di quelli che sono i macropori e fa esattamente quello che fa il calcare nella vostra doccia pian piano se abbiamo all'interno di questi intonaci una percentuale di porosità negli anni si va ad abbattere ecco perché vengono chiamati dagli stessi produttori di intonaci intonaci di sacrificio cioè sono intonaci che vengono applicati si sacrificano loro per un tot di anni ma poi devono essere rimossi e realizzati nuovamente quello che è invece il nostro concetto è totalmente differente noi parliamo invece non di macroporo ma di microporo e adesso vi farò vedere il perché come dicevo prima il tipo di approccio che c'è sempre stato nel confronto degli intonaci da domodificazione è quello di avere una scarsa residenza ai sali o più o meno di avere molte volte degli infetti impermeabilizzanti è sbagliato parlare di impermeabilizzazione quando parliamo di diumidificazione perché non facciamo altro che spingerla sempre più su creare i famosi zoccolini con questi strollati cementizi o fare dei rivestimenti lapidei vi dicendo non è che andiamo sì a nascondere effettivamente il problema della seta capillare ma in pochi anni verrà bypassato quell'altezza e la troveremo al di sopra di quello che è il livello che siamo andati a nascondere quindi tutto ciò che è impermeabilizzazione nel concetto dell'umidificazione è sbagliato dobbiamo permettere invece al contrario delle murature di avere in maniera naturale la possibilità di far uscire quella che è l'umidità in eccesso e ricordatevi una cosa più una muratura è bagnata più è dispersiva da un punto di vista termico una muratura bagnata è 23 volte circa più conduttiva di una muratura asciutta e quindi naturalmente se parliamo come prima il mio predecessore l'ingegnere di benefici di comfort ambientali cerchiamo di risolvere non facciamo degli intonaci che siano semplicemente dei macchiaggi molto belli della mia parete ma che si disinteressano totalmente di quello che è il livello di umidità perché se no comunque la vivibilità interna scarsa è e scarsa e scarsa rimane non ne parliamo del fatto che se ho una parete umida con dense muffe batteri trovano proprio il loro pane quotidiano qual è stata la nostra volontà di non ragionare sull'estetica dell'intonaco ma di ragionare sulla muratura noi dovevamo ragionare sul sistema parete quindi ci serviva un qualcosa un sistema che ci permettesse effettivamente l'abbassamento del livello di umidità all'interno della parete e come abbiamo fatto questo? attraverso un sistema che abbiamo denominato acquavapore questo è un principio dove abbiamo realizzato un sistema costituito da due intonaci che adesso vi farò vedere siamo biocalci attasciugo prima mano e biocalci attasciugo seconda mano il connubio di questi intonaci deve permettere innanzitutto sul primo in adesione sulla muratura la capacità di avere un ampia effetto estrattivo quindi una sorta passatemi il termine di spugna che si prenda l'incarico di assorbire l'umidità in eccesso quindi di abbassare il tenore di livello di umidità all'interno della parete e poi naturalmente di trasformarlo in vapore per portarlo fuori quindi il concetto di umidificazione è questo non è il concetto di impermeabilizzazione sbagliato di cui vi parlavo poc'anzi e in più naturalmente di fare che cosa di avere all'interno un elemento quale l'apostolana di cui vi ho parlato poc'anzi che mi permetta il fatto di non avere nessun tipo di aggressione a parte del sale che è appunto l'elemento disgregante questo naturalmente ci permette questo ci è potuto venire incontro attraverso l'utilizzo di alcuni elementi di cui naturalmente vi parlerò adesso il primo vi ho già parlato del fatto della possibilità del connubio della calce l'apostolana e come l'apostolana ci permetta la non reattività al sale e la calce invece ci permetta un'ottima traspirabilità e questi sono i primi due elementi terzo elemento cere naturali noi abbiamo visto prima in termini tecnico l'avrete visto e studiato 3000 volte si chiama inversione del menisco cioè è l'inversione tra appunto la capacità di essere il diofilo al diofobo cioè effettivamente questa capacità nel essere o preponderante o negativo nei confronti della risalita da parte dell'acqua la cera che cos'è la cera è un ottimo è un ottimo sono in microsfere veramente piccolissime che poi si disciolgono in fase di impasto della malta ci permette appunto questo stato questo passaggio di cambio di inversione del menisco tra il primo strato dell'intonaco e il secondo strato dell'intonaco poi abbiamo utilizzato anche la zirconia cristallina perché perché come vi dicevo prima quello che è la dimensione il microporo il microporo ha un effetto molto importante rispetto al macroporo il macroporo fa entrare la soluzione di acqua e sale e quindi il sale entra e occlude se invece io riesco a mantenere in maniera naturale e l'associazione tra la calce e la pozzolana me lo permette in origine in partenza un cristallo che mi mantiene piccolo appunto il poro faccio sì che all'interno di esso possa avere la capacità di passare il vapore a quello perché è di dimensioni molto passe molto piccole ma che non abbia assolutamente la capacità di passare che cosa il cristallo del sale che assolutamente non deve andare a precludere l'intonaco poi naturalmente come dicevamo prima gli inerti la curva gronometrica qui è sicuramente la maestria da parte dei nostri ricercatori del grill lab creare una curva gronometrica che permetta effettivamente una porosità in un certo tipo di realizzazione in modo che permetta effettivamente la traspirabilità curva gronometrica vuol dire l'associazione di vari inerti con varie dimensioni e in vari percentuali che facciano sì appunto che questo avvenga quindi per essere precisi tre punti dove ci siamo maggiormente soffermati la matrice tra la calce e la pozzolana naturalmente l'estrazione che deve avere il ciclo di intonacature in modo passare il tenore di umidità che appunto fa che cosa che vi sia una disetratazione continua del muro e poi l'ultima cosa l'evaporazione con appunto la non possibilità dell'aggressione salina e questo è come funziona il sistema abbiamo quattro punti fondamentali il primo tenete conto è come se avessimo il muro a contatto da questa parte qua mentre invece questo intonaco qua sulla parte esterna per intenderci in questa rappresentazione grafica abbiamo appunto il primo punto che vi deve essere l'aspirazione il secondo dove naturalmente deve essere la neutralizzazione del sale il terzo la trasformazione da sottoforma liquida di miscela acqua e sale in vapore e l'ultimo naturalmente il rilascio andiamo punto per punto il primo il prodotto appunto come vi dicevo poc'anzi si chiama biocalce t'asciugo prima mano e funziona niente più niente che meno come se fosse una spugna a contatto cioè questo è un intonaco effettivamente caratterizzato da che cosa da una permeabilità e anche da una porosità tale che appunto abbia questa capacità estrattiva di quello che è il livello di umidità quindi fa da estrattore fa davvero e proprio estrattore dell'umidità naturalmente all'interno di esso vi è che cosa vi è presente in maniera preponderante la pozzolana perché perché all'interno di questo primo strato che voi vedete un pochino più scuro ok e io qui ho in maniera sicuramente minore però all'interno una miscela di acqua e sali disciolti all'interno di esso quindi ho bisogno di un elemento naturale che mi permetta il fatto che non mi cristallizzi lì all'interno prima cosa non cristallizza perché vi è la presenza di porzolana seconda cosa non cristallizza all'interno perché parliamo di un primo strato bagnato quindi dove c'è una soluzione dove non c'è appunto una preponderanza del sale ma dove il sale è disciolto all'interno dell'acqua punto 2 si realizza appunto il tasciugo seconda mano il tasciugo seconda mano è caratterizzato da quelle microsfere di cera che vi ho parlato poc'anzi che sono disciolte all'interno di essa questo interfaccia e voi vedete appunto la zona tratteggiata permette quello che dicevamo prima cioè l'inversione del menisco qui io ho una trasformazione tra un primo strato estrativo quindi caratterizzato da una miscela di acqua e sale a un secondo strato invece dove la bassa porosità permette esattamente che cosa l'uscita del vapore acqua faccio un esempio molto banale la canna la gomma dell'acqua che utilizzate magari per per innaffiare il giardino voi aprite una certa pressione il tubo dell'acqua e l'acqua esce a una certa pressione non intervenite assolutamente sul robinetto ma intervenite semplicemente con l'occlusione quindi con la diminuzione della sezione di uscita del tubo e la pressione cosa fa aumenta ok non ho intervenuto nel rubinetto ma semplicemente nella sezione quindi cosa succede succede esattamente la stessa cosa quando io abbasso la porosità e naturalmente in quel caso lì creo anche il passaggio di menisco grazie appunto alla sfera di cera disciolti creo questa maggiore capacità evaporativa e che naturalmente permette una buonissima traspirabilità tenete conto che parliamo del tasciugo su seconda mano con una coefficiente di resistenza al passaggio del vapore di mu 3 l'aria che viene preso comunemente come esempio ha un mu 1 gli tonici cementizi hanno un mu 20 quindi parliamo di valori effettivamente di carattere assolutamente eccezionali e appunto come dicevo prima per quanto riguarda il discorso dell'uscita molto importante magari mi potete dire perfetto avete un primo strato estrattivo il tasciugo per seconda mano e un secondo strato invece fortemente evaporativo ma cosa succede poi all'interno della muratura provate a pensare alla muratura come costituite da tanti piccoli capillari dove appunto all'interno di essi sale la miscela di acqua e sale se io ho una forte capacità nel portare fuori quella che è l'umidità ok quello che è il veicolo di scioglimento del sale pian piano i cristalli di sale cosa faranno all'interno della muratura andremo in saturazione vi faccio un esempio banale se io prendo questo bicchiere d'acqua e lo riempio fino a un certo punto e ci butto all'interno del sale grosso fino a un certo tipo di quantitativo il sale si discioglie perché l'acqua è più di quello che è il quantitativo di sale ok a un certo punto io arrivo a saturazione cosa vuol dire vuol dire che ho introdotto talmente tanto sale che la capacità di scioglimento dell'acqua non è più in grado di scioglierlo io sul fondo del bicchiere vedo di nuovo i granelli di sale il principio è esattamente lo stesso però trasportato all'intonaco se io ho la possibilità appunto di avere un intonaco che ha una capacità estrativa dell'umidità quindi mi abbassa il tenore di che cosa di quello che è l'acqua che è l'elemento di scioglimento del sale fa sì che il sale mi rimane all'interno della muratura se il sale rimane all'interno della muratura molto bene pian piano sono come tanti piccoli cristalli che andranno a occludere quelli che sono i capillari e quindi andranno a che cosa andranno a bonificarla ma che in maniera in maniera assolutamente naturale da un punto di vista se vogliamo anche esagerare ne andranno anche consolidare perché perché un capillare che all'interno di esso ha aria fa sì che naturalmente il materiale da costruzione sia fortemente comprimibile più aria c'è all'interno di un materiale da costruzione più esso è comprimibile quindi più è scarsamente meccanicamente resistente se invece naturalmente il cristallo del sale pian piano andrà a occludere è come se io andassi naturalmente a mettere tanti piccoli tappini a tutti i capillari vuol dire che non avrò più aria e oltre a chiudere e quindi abbassare il tenore di umidità e quindi a bonificare per sempre perché noi le nostre schede tecniche non troverete mai intonaco di sacrificio per noi con gli intonaci della linea di asciugo o in passato con le linee al biocalce della rinzaffo e della zoccolatura per noi il lavoro deve essere fatto una volta e una sola non chiediamo di dover intervenire dopo un tot di anni proprio per questo tipo di motivo perché permettiamo una forte evaporazione dell'intonaco un abbassamento del tenore di umidità la cristallizzazione del sale all'interno della muratura che andrà naturalmente a occludere se idealmente il sale comunque nel primo strato è vero voi mi dite non mi dire che tutta la miscela di sale e di acqua rimane solo nella muratura e per osmosi una piccola parte non entra nel tasciugo prima mano è vero avete ragione per osmosi una piccola parte entra nel tasciugo prima mano ma non dimenticatevi una cosa che in fase iniziale finché è bagnato comunque è disciolto perché parliamo nel primo strato di un tonaco che sta lavorando che è umido quando naturalmente il tenore di umidità si abbasserà lì entra poi in gioco chi? la pozzolana la pozzolana dà la non reattività salina quindi permetto di non far sì che cosa? che vi sia la disgregazione dell'intonaco spero di essere stato chiaro se sono domande poi comunque ne riparliamo una delle ultime cose poi sarò veramente molto veloce per la fine il discorso che facevamo prima vi ricordate quando vi ho fatto vedere il rating bio e vi ho fatto vedere un valore di efficienza 5 su 5 per quanto riguarda gli inquinanti indori il famoso toluene pinene formaldeide anidride carbonica umidità questo quello che naturalmente è possibile fare nella camera Indortron a Ispra a Varese noi l'abbiamo fatto nei nostri laboratori credo che alcuni di voi tra l'altro l'abbiano anche visto di persona noi abbiamo qualcosa come una decina di camere tipo quella che vedete nella fotografia questa camera è così costituita a come vedete internamente un intercapedine dove si può inserire un materiale da costruzione e una delle due camere in vetro che vengono sigillate come vedete ha dei bocchettoni in basso a sinistra dove noi facciamo che cosa? noi insuffliamo un inquinante toluene pinene formaldeide in un certo tipo di quantitativo e poi andiamo a verificare che tenore di inquinamento vi è nella camera a fianco quindi vediamo la capacità che ha il materiale da costruzione nel diluire gli inquinanti presenti all'interno degli ambienti cosa vuol dire diluire gli inquinanti? vuol dire che invece di assorbire solo noi tutta la formadella al 100% tutta l'edride carbonica al 100% è la parete è l'intonaco che fa questo tipo di lavoro quindi è coadiuvante quello che dicevamo all'inizio nella salute vi faccio vedere degli esempi pratici molto pratici ho preso biocalce in tonaco come vedete nella colonna di sinistra i primi 5 inquinanti nella riga leggermente sotto vedete in tonaco cementizio 1,5 cm non vi dirò per eleganza qual è stato l'intonaco di confronto però è un intonaco fortemente usato nel panorama costruttivo italiano di un'azienda fortemente conosciuta cosa abbiamo fatto? abbiamo preso un centimetro e mezzo di intonaco di questa azienda e un centimetro e mezzo di intonaco biocalce e abbiamo fatto all'interno di quella camera lì la misurazione questi sono i risultati che sono in internet sono applicabili sono stampati nero su bianco sulle nostre cataloghi quindi che hanno di cui non ci vergogniamo non ve le facciamo vedere a spot è scritto in qualsiasi tipo di documentazione nostra prendiamo il primo il toluene passiamo da un flusso di 253 mg m2 per quanto riguarda il biocalce intonaco a invece 149 mg per quanto riguarda l'intonaco cementizio vuol dire che abbiamo assorbito all'interno del biocalce intonaco un 69% in più di quello che invece normalmente ci saremmo respirati noi il pinene parliamo di 347 contro un 142 invece dell'intonaco cementizio vuol dire un miglioramento della qualità dell'aria indoor del 144% la formaldeide che è anche cancerogena parliamo di 6437 contro 3122 quindi parliamo un miglioramento del 106% l'anidride carbonica derivante dal fumo di sigarette vi ricordate dai bruciatori che abbiamo in casa da un 398 a un 70 quindi parliamo di un miglioramento del 467% non parliamo infine dell'umidità che passiamo da un 43 a un 21 del nostro del biocalce intonaco a un 21 invece dell'intonaco cementizio preso di paragone quindi con un miglioramento del 100% tutti questi parametri sono tutti parametri che come dicevo prima entrano in una logica dove l'intonaco non è un semplice intonaco non deve fare l'intonaco non deve semplicemente andare a nascondere quella che è la mortura sottostante o a creare un particolare effetto estetico ma può diventare un vero e proprio coadiuvante nel benessere e nella salute di chi abita appunto questi tipi di immobili come dicevo prima anche il batterio statico e il fungistatico è stato preso anche qui un laboratorio francese ahimè purtroppo in Italia non ce l'avamo sono anche un po' nazionalista contro i francesi ma non ce l'abbiamo fatta il SESTEB è un è il laboratorio dello stato francese in poche parole è assolutamente un laboratorio indipendente sotto tutela del ministero dell'ecologia francese e abbiamo fatto appunto vedete questi campioni vi è all'interno un gel che è molto appetibile da chi? da funghi da muffe e batteri vengono fatti dei campioni appunto dei nostri prodotti del nebbiocalce e inseriti all'interno di questo ambiente molto idoneo alla proliferazione dei funghi e alla termine di questi test questa è la certificazione che poi noi possiamo rilasciare per quanto riguarda i prodotti biocalce come vedete il primo cioè da un punto di vista batterico la proliferazione in classe B è assente per quanto riguarda tutti gli altri nomi non mi ci metto neanche in latino perché farei una figuraccia pessima però che parliamo appunto di funghi sono tutti proliferazione assente proliferazione assente proliferazione assente cosa vuol dire? che fatta colonia batterica o fatta colonia fungina 100 al termine del test sui prodotti del nebbiocalce venneranno presenti 100 cioè non vi è restato né un effetto fungicida o battericida perché come dicevo poc'anzi se uccide però fa male anche a noi ma non vi è restato neanche una proliferazione quindi naturalmente va mantenuto inalterato questo tipo di discorso ultima cosa e poi veramente andiamo sempre in quest'ottica abbiamo realizzato una linea che ha effettivamente un tipo di concetto assolutamente innovativo e sempre in quest'ordine abbiamo appunto messo sul mercato una linea che si chiama biogesso questa linea biogesso è caratterizzata da che cosa? il nome biogesso gesso ne viene a facile quello che è elegante calce aerea in questo caso perché quando parliamo di un elegante aereo come il gesso non si può mettere in associazione un elegante idraulico non vanno in combinazione quindi calce aerea gesso e un particolare attivatore che è un brevetto mondiale mondiale carcol cosa abbiamo realizzato? abbiamo realizzato un sistema di intonaci rasanti e anche stucchi per last in cartongesso che vanno a risolvere sempre quello che è un po' il live motive che vi ho parlato fino adesso cioè il problema della qualità dell'aria indoor principalmente quelli che sono tra gli elementi in cui si impattano principalmente sulla nostra salute sono i VOC i VOC sono le particelle organiche volatili sono quelle che vengono chiamate quando stiamo fermi con le targhe alterne e le famose polvere sottili sono delle particelle talmente fini che noi inaliamo il sangue entrano nei nostri polmoni i polmoni naturalmente per dimensioni non hanno capacità nel trattenerlo e poi naturalmente quindi dal polmone passa direttamente all'interno del sangue queste particelle organiche volatili possono essere fortemente impattanti sulla nostra salute più o meno perché i VOC sono di vari tipi di origine sicuramente la formaldeide è tra le particelle organiche volatili più impattanti negativamente su quello che è appunto il nostro organismo e vado abbastanza veloce cosa abbiamo creato appunto questa linea biogesso che si chiama biogesso mangiavoc il nome è un po' nazional popolare però volevamo farvi capire bene che cosa quello che vi ho detto anche prima di realizzare una serie di intonaci per interno che siano coadiuvanti nel benessere dell'aria interna e quindi di far sì che all'interno di questo principio attivo vi sia la capacità di avere un vero e proprio assorbimento di quelli che sono appunto queste particelle come funziona voi sapete benissimo che il gesso tra tutti i leganti è il materiale più igroscopico cosa vuol dire l'igroscopia l'igroscopia è la capacità appunto di assorbire quello che è l'aria all'interno degli ambienti e poi eventualmente di rilasciarlo però il gesso insieme a quello che è appunto l'attivatore Kerkel fa questo tipo di lavoro qua capta la forma dedica nell'aria il gesso è un vero e proprio estrattore come se fosse una sorta di spugna che permette all'aria appunto di essere captata e entrare all'interno della parete trasforma le molecole di formaldeide in composti inerti cosa vuol dire vuol dire che non è che le mangia o le distrugge ma le trasforma chimicamente in qualcosa che non può più naturalmente inficiare la nostra salute le fissa all'interno della propria struttura quindi naturalmente evitando il successivo rilascio dei VOC e questo tipo di di forte benessere che può dare appunto la linea biogesso in interno è molto importante per voi progettisti perché perché potete proporre eventualmente ai vostri committenti non una valutazione da un puro semplice parametro di carattere estetico che appunto l'intonaco normalmente dà ma potete permettere e credetemi in questi mesi ha avuto effettivamente un forte impatto soprattutto sul privato il fatto di dire io ti realizzo un intonaco interno che ti abbatte quelli che sono appunto le particelle organiche volatili e che migliora il tuo tenore di salute all'interno dell'ambiente per far questo naturalmente come sempre non belle parole ma ci siamo sempre appoggiati a un laboratorio certificatore l'Eurofins che ha sede in Danimarca è considerato tra tutti i laboratori che lavorano in questo settore il più serio e appunto ha quantificato e valutato la capacità che ha la linea biogesso nell'abbattere le particelle organiche volatili quindi di portare un miglioramento alla salute interna ha un certificato che noi naturalmente rilasciamo e quindi qualora il progettista richiede effettivamente questo tipo di certificato noi lo possiamo lasciare tranquillamente può essere tra l'altro allegato eventualmente alle pratiche dell'appartamento stesso della villa quello che è che viene appunto appunto realizzata in modo da testare anche da testare quello che è il fatto di essersi messo all'interno non un semplice sistema di intonaci ma un vero e proprio sistema bonificante e naturalmente pensiamo a una cosa quando parliamo di interni parliamo di una superficie rispetto all'esterno che aumenta di 4-6 volte facciamo un esempio di questa stanza questa stanza che non so quanti metri quadri possa essere però se pensate alla superficie a pavimento noi abbiamo altrettanta superficie a soffitto più tutte e 4 qui un po' di meno perché c'è molto vetro le pareti perimetrali o le tramezze quindi aumentiamo effettivamente di molto quella che è la capacità assorbente che può avere un intonaco in termini di superfici infatti così la casa si trasforma praticamente come se fosse un enorme impianto non tecnologico ma naturalmente naturale depuratore di quello che è appunto l'aria all'interno degli ambienti per quanto riguarda naturalmente i benefici rispetto all'intonaco cementizio sono imparagonabili cioè quando voi naturalmente entrate nel parametro di realizzare un intonaco cementizio l'unico parametro che si può tenere in considerazione è il prezzo perché da un punto di vista delle prestazioni l'abbiamo visto questa sera rispetto alla calce è imparagonabile rispetto ai prodotti della linea biogesso sono assolutamente imparagonabili perché perché non ho mai visto nessun tipo di nostro competitor fare delle schede tecniche su cui fa precisa menzione o con dati scritti oggettivi su quelli che possono essere effettivamente miglioramenti come la tabella che vi ho fatto vedere prima in percentuale degli intonici della linea biocalce cosa molto importante quando si propone eventualmente delle volte un legante a gesso qualcuno può storgere un po' il naso perché perché il gesso sappiamo benissimo non va molto d'accordo con ambienti ambienti umidi e continuo a sottolineare la cosa è vero qualora abbiate ambienti soggetti a risetta capillare rimaniamo con la calce la calce è decisamente il legante per antonomasia in quel tipo di ambienti però dove magari interveniamo in edifici nuovi o anche vecchi senza problemi di risetta capillare dove magari l'unica vostra preoccupazione può essere ma in bagno in cucina può essere idoneo il gesso abbiamo messo quel bel marchietto giallo visivo boom che ha sicuramente un impatto forte dove vi dà assolutamente la garanzia che i proteine biogesso sono idonei anche in bagno e in cucina quindi non soffriamo assolutamente quello che può essere un'umidità salduaria perché in bagno e in cucina noi non cuciniamo 24 ore su 24 365 giorni all'anno o non facciamo la doccia per 365 giorni all'anno quindi naturalmente nessun tipo di problema qui potete leggere appunto una serie di benefici io vi ho rotto le scatole anche anche troppo quindi vi ringrazio per l'attenzione eventualmente abbiate domande sono presenti adesso per quanto riguarda domande immediate i nostri responsabili di zona sono presenti qua in sala quindi vi possono lasciare i vostri bigliettini la formazione in care call è un punto imprescindibile per quanto riguarda il settore su cui lavoro il centro studio di care call noi quotidianamente praticamente o comunque molto frequentemente facciamo dei corsi di formazione ai nostri responsabili di zona quindi quello che so io lo sanno anche loro in maniera assolutamente uguale quindi fidatevi eventualmente per sopraduoghi o per magari qualsiasi tipo di delucidazione vogliate rispetto agli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera grazie mille grazie a tutti prima di andare via vi volevo ricordare l'appuntamento il prossimo appuntamento che è il 12 maggio lunedì con il dottor Ubaldo Spina del CETMA ci parlerà di arredamento ecosostenibile interverrà anche Cube Design che è un'azienda marchigiana leader nella realizzazione di arredi domestici in cartone adesso se avete un attimo di pazienza procediamo all'estrazione del buono di 150 euro messo a disposizione da idea sposa numero 28 3 Giovanni Perrino è presente grazie a tutti grazie a Care con l'ingegner Capone e da sposa ci vediamo lunedì buona serata grazie a tutti